Festival di Sanremo 2024. Amadeus in lacrime. La terribile notizia di poco fa sul dramma che ha colpito Annalisa. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Annalisa. Una delle voci più amate in Italia. Sta brillando alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Regalando prestazioni eccezionali. Tuttavia, come ogni edizione, lo spettacolo porta con sé non solo musica ma anche aspetti visivi e gossip. La sua straordinaria performance ha catturato l'attenzione. Ma molti hanno preferito discutere del suo outfit. La speculazione su una presunta gravidanza è iniziata dopo il suo matrimonio nel luglio del 2023. Con osservatori in cerca di segnali. Quando è apparsa sul palco evitando le scale. Alcuni hanno ipotizzato una scelta per garantire maggiore sicurezza dovuta a una gravidanza. Tuttavia. Annalisa ha chiarito che non è incinta. Ma ha evitato le scale per evitare un trauma. Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale. Ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un'esperienza bellissima. Ma neanche bruttissima. Perché poteva andare peggio. Però mi è venuta molta paura. Sono stata traumatizzata dall'episodio. Quindi ho preferito non scendere dalle scale. Non ci sono quindi notizie di una cicogna in arrivo per Annalisa. Solo un gesto per proteggersi dopo un incidente passato. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.